Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms Allora oggi non voglio darvi nessun tipo di consigli in particolare Ma bensì voglio... non si dice ben ben sì, penso che non si dice ma bensì Ma voglio farvi vedere più o meno il nostro regno, come è messo, qualche aggiornamento sul mio villaggio E l'evento che è uscito oggi, vi faccio un video abbastanza veloce perché ogni volta vi escono video di 8 anni Quindi cerco di fare abbastanza velocemente Allora in pratica è uscito questo evento di oggi, si chiama Testimone della Storia In pratica sono due eventi, non solo uno, questo è il Testimone della Storia Potete fare... mi si chiude sempre l'evento Potete fare insomma questo evento qua, la capoccetta d'oro, la coroncina d'oro potete acquistarla usando 7000 gemme Quindi free, ok, senza spendere soldi E vi consiglio di farlo perché così ricevete tanti premi in più E oltre ai premi in più che vi dà, riuscite ad ottenere anche una skin del castello Ok, molto buona perché vi dà attacco della Cavalleria più 5% Difesa della Fanteria con meno 5% Quindi se siete in Cavalleria molto molto forte Ma comunque avercela è sempre utile insomma perché può essere utile sempre in futuro Oltre poi anche quello vi dà teste d'oro, stelle d'oro e un monumento Quindi qua un coso, una decorazione per la città Acceleratori, gemme, rilocatori, risorse, che vi dà una marea di roba Quindi prendetelo perché per 7000 gemme ne vale veramente la pena Dopodiché abbiamo invece caccia al tesoro Quindi dovete praticamente trovare questi frammenti di mappa Una volta trovati tutti vi usciranno una sorta di mappa Dove vi dice nella vostra mappa del regno Dove si trova il punto preciso Voi ci andate, vedete la posizione, ci mandate uno scout Andate a raccogliere, quindi raccogliete quella roba là Dopodiché vi dà una sorta di baule che voi potete aprire e vi date premi Molto buoni quindi vi consiglio di farlo I rubini ragazzi per fare l'evento questo qui Li potete ottenere uccidendo barbari Raccogliendo risorse nella città o all'esterno O anche tramite questo evento qui Quindi francoboli da conservare Fatelo tutto anche questo evento perché è molto molto semplice Alla portata di tutti sono veramente missioni stupidissime Quindi potete farle E inoltre quando fate tutte le missioni Cioè neanche non tutte Insomma in base a quante missioni fate Vi dà un pack, quindi un baule per ogni missione completata E ogni missione vi dà Cioè ogni baule vi dà testa epica Velocitazione di 5 minuti e topo da 1000 di exp Quindi in totale potete fare 100 bauli Quindi in totale potete ottenere 100 teste epiche 100 per 5 minuti di velocitazione E 100 per 1000 di exp Quindi 100 per 1000 ragazzi Sappiatelo bene Sono un milione di exp Quindi fatele Le missioni Qui vabbè c'è una roba della fortuna Quindi niente di più Questo è il governatore più leggendario Sempre la solita roba E basta Questo è il coso di Osiride Quindi neanche ve lo faccio vedere E basta Per quanto riguarda gli eventi è finito Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti del mio castello Sto provando a fare il municipio al 23 Ma non sapendo che servisse il magazzino al 22 Non ci ho fatto caso Minimamente L'ho visto E non l'ho portato su Quindi c'era ancora il 18 E adesso lo sto portando su al 22 Per poi poter fare il municipio Infatti stavo già accumulando le risorse necessarie Per poterlo fare Ma Sono rimasto fregato stamani Ad ogni modo Ho fatto il muro al 22 Tutte le altre strutture sono al 22 A parte le miniere Che le sto portando su Ma raga C'è Ma quanto costano? Quindi Faccio piano piano Gli ospedali anche li farò piano piano Perché anche questi Servono una batilata di risorse E poi altre strutture principali Da dover portare su Prima di bussare il castello al 23 Cioè intanto lo faccio Perché ci vogliono non so quanti giorni Credo più di 30 giorni A fare il castello al 23 E nel frattempo che si fa Comunque farò anche Le strutture per le truppe A livello 22 Perché Voi ragazzi non lo sapete Perché voi non lo sapete Io lo so che voi non lo sapete Ma le strutture In generale tutte Non tutte Ma la maggior parte Tipo queste Quindi quella da destra Niente delle truppe Quando le portate su Voi non lo sapete Brotti caproni Voi non lo sapete Voi non lo sapete Brotti caproni Ma se voi andate a vedere Nelle informazioni Vi da Questo non c'entra niente Voi vi da C'entra anche quello Ma non c'entra niente C'entra anche la cosa Che mi interessa più Di farvi vedere Vi da Ad esempio Lo stabile Incremento Della difesa delle truppe Ok Quindi se voi li portate su Avete più difesa delle truppe Se voi invece Andate su La caserma Avete Un incremento Dell'attacco Delle truppe Se invece voi andate qui Della CIA Vi da un incremento Della salute Mentre per quanto riguarda Le balliste Perché sono quelle più luride Vi da un incremento Del carico Della truppa Quindi Cioè nel senso Fatelo perché serve Però non focusatevi su quelle Ecco Diciamo così Dai A parte le scherzi Insomma Controllate le strutture Cosa fanno Perché tipo Ad esempio l'Accademia No La portate su Aumenta la velocità di ricerca Gli ospedali Li portate su A livello 25 Ad esempio Incrementano la salute Delle truppe E questo credo Che non faccia niente No Però se non erro C'erano qualche altro Tipo di strutture Forse il magazzino Faceva qualcosa No No forse Sono tutte Non credo Ci siano altre cose No Ok Quindi Gli ospedali Con le strutture Per le truppe Portandole su Vi danno Dei buff Su attacco Difesa E salute Delle vostre truppe Quindi Non sottovalutatele Queste cose ragazzi Perché in 1% In 1,5% In più Fa la differenza In combattimento O in difesa Quindi Non sottovalutate Questi particolari Mi sta cadendo Il cellulare Comunque Bravo check up Fatto Ho raggiunto Quasi 8 milioni e mezzo Quindi non male Nelle ricerche Sono messo Molto molto bene Perché A parte che ve l'ho fatto vedere Anche l'altra volta Ma qui ho fatto tutto Mi sono fermato E sto andando Qua adesso Quindi sto facendo Attacco Difesa Salute Delle truppe Cioè Voi ditemi Ma perché Allora A livello 4 Servono un giorno E 20 ore Ok A livello 5 Servono 3 giorni E 16 ore Ma per quale motivo Più del doppio Del tempo Potevano mettere Due giorni E qualcosa A livello 6 Mi mettevano Tre giorni E qualcosa No No E vabbè Però Ci sta A livello 5 Mi dà più Un per cento Di attacco E quindi Non male Dovrei riuscire a portarlo Con il municipio Al 22 Se non erro Fino a livello 6 Barra 7 Non sono tanto sicuro Ma credo che a livello 7 Sia fattibile E quindi Ci proverò Vedrò un attimo Fin dove si arriva Perché mi serviranno Per il KVK Quindi mi sono fermato Un po' con Quell'economia Poi porterò Più avanti Quelle là su Insomma Devo essere pronto Per il KVK Altrimenti Avrò truppe Sì Avrò eroi Sì Ma se non ho i buff Me ne faccio per poco Mentre Per quanto riguarda Le truppe Raga Abbiamo raggiunto Il mezzo milione Di truppe In bel 500 4615 Truppe Purtroppo Sono molte Molte T3 Ma Non sto usando Nessun tipo Di acceleratore Quindi Piano piano Ne farò Sto aspettando Gli eventi giusti Per poter Boostare E usare Le risorse Nello zaino Cioè Le risorse Insomma Le cose Che non lo zaino Nel risorse Intendo acceleratori Punti azioni Quelle cose là Non intendo Risorse In sé per sé Come risorse Quindi Sto aspettando Qualche evento So che nel pre KVK E addirittura Nel KVK Ci saranno Parecchi eventi Riguardanti Busta Truppe Potenza Truppe Velocità Di ricerca Usaci Acceleratori Altre cose Quindi Attendiamo Noi attendiamo Siamo Calmi Attendiamo Andiamo Nella situazione Del regno Abbiamo cacciato L'alleanza Gigara Qua fianco Perché ci ha Non dico Tradito Ma volevano Prendersi Praticamente Il templio Solo per loro Un po' La stessa situazione Che c'era nel 35 E allora ci siamo Qualizzati Con le altre alleanze E le abbiamo Fatti fuori Abbiamo fatto Una guerra Che è durata Tipo 7-8 ore Una cosa del genere Però alla fine È andata a buon fine Noi personalmente Non abbiamo riportato Nessuna perdita Se non qualche ferito Ma niente di grave Tutta roba Che si è abbastanza Gestita decentemente Quindi attualmente Siamo rimasti In tre alleanze Principali A gestircele Ma principalmente Ancora di più due Perché la terza È la Tk Ma ha quasi La metà Del nostro potere Ed è la quarta Ma non so Che ci verrà A fare compagnia Qui nel centro Ma perché adesso Non c'è nessuno Quindi ci suddivideremo Poi quello che è Il trono Nei giorni a venire Però comunque Sono tutti molto disponibili Anzi C'è una chat Proprio per i titoli del regno Dove tu dici Che ne so Voglio il duca Dopo 30 secondi Ti danno il duca Quindi hai il boost Sulla velocità Di addestramento Del 5% O vuoi l'architetto Ti danno il boost Sulla velocità Di costruzione Del 10% C'è tutta roba Abbastanza veloce Quindi Sono molto molto soddisfatto In questo modo Si riesce a avere Più Più strutture E meno tempo Ok Quindi si fanno Delle strutture Che meno tempo Un boost Sulle cose Non fa mai mare Ricordatevi ragazzi Per cui mi scordo Sempre di dirvelo Dovete raccogliere Le rune Che adesso Non ci sono Perché sono finite Raccogliate le rune Vedete quello che c'è In base a ciò Che vi serve Quindi se dovete fare La struttura C'è la runa Velocizzazione Sulla costruzione Prendetela ragazzi Non fate che la lasciate là Perché Quel 7 O 10% Fa la differenza Non sottovalutatele Cioè su un giorno Quindi su 24 ore Vi toglie Due ore e 40 Un 10% Ragazzi Quindi Non sottovalutatele Queste cose Sono quasi Tre ore e meno Di 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 costruzione Quindi Non Cioè che poi Possono essere tre ore Che dici Magari si sono Durante la notte Non perdi niente Non ti cambi niente Però magari Possono essere tre ore E 10 Acceleratori Perché può capitare Anche quella cosa E raga Tre ore e tre ore Poi alla fine Magari si fanno sentire Io ho fatto un esempio Su una struttura Di 24 Ore Ma se tipo Avviate il municipio Che ci vogliono 36 giorni Vi raga Con il 10% Vi toglie 3 giorni e 6 ore Cioè non è roba poca Parliamoci Chiaro Quindi Non sottovalutatele Queste cose Per niente Niente Per il resto Poi sempre Tutta abbastanza Roba invariata La situazione del regno È quella che è Tutto molto stabile Tutto molto tranquillo Si cresce Il KVK Dovrebbe essere Al momenti Non so precisamente In che giorno Ma il pre KVK Dovrebbe essere Intorno Tra 15-20 giorni Perché il nostro regno Attualmente Se lo apre Perché è sempre Buggata A questo punto Se non erro Il nostro regno È a esattamente 65 giorni No scusate Questo qua Il 36 Ho sbagliato io Il 39 È esattamente 62 giorni E se non erro Tra 15-20 giorni Dovrebbe essere Il pre KVK Quindi Non siamo Non siamo Per niente Lontani Andiamo a vedere La situazione del 2240 Perché l'altra volta Non ho voluto vederlo Perché Era ancora C'era ancora La nebbia Vediamo Vediamo Una situazione Negli altri regni Allora Qui ci sono Due alleanze Principali Nel 40 Che gestiscono Da come vedo Però non c'è ancora Il tempio aperto Ok Quindi ancora Non hanno Una possibilità Di poterlo conquistare Qui cosa sta succedendo Non ne ho idea Non credo stiano Facendo i guardiani Perché non me li fa vedere Forse non Non sono visibili A noi Di altri regni Non lo so Però vedo Che c'è un po' di confusione Qua davanti Vabbè Comunque Qui ci sono Due alleanze Che gestiscono Nel 38 Andiamo a vedere Invece Nel 38 Nel 38 Dov'è il tempio Qua Sono perso Mi sono Ecco Qui nel 38 Ci sono Tre alleanze Sono disposte Un po' male Raga Sono disposte Veramente molto male Queste bandiere Qua davanti Non si capisce Se sono tre Quattro alleanze Non ha perso Tre quattro alleanze Però sono disposti Molto molto male Non si capisce niente Nel 37 Invece Vediamo Cosa Abbiamo Nel 37 Nel 37 Ci sono Allora Se non vedo male Dovrebbe essere Tutta un'unica Alleanza Qua Perché si chiamano XALX AX AFX X ASX E XL AX Quindi Dovrebbe essere Tutta un'alleanza Sotto altre alleanze Credo Ma Non lo so Quanto sia Udine una cosa Del genere Ma Va bene così Per loro Va bene per tutti Comunque Dovrebbero essere All'incirca Tre quattro alleanze Anche qua Nel 36 Perché c'è la stellina Perché forse c'è un buff Ok 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 Quindi dovrebbe essere Un regno Abbastanza messo bene Questo Non voglio dire Cavolate Vediamo un po' La situazione Nel centro Qual è La situazione Nel centro È abbastanza Fatta pure Qui Abbastanza Storta Però dovrebbe essere Anche qua Quattro alleanze A gestire Il 35 È quello Dove eravamo Noi prima Vediamo un po' Che situazione C'è Ma c'è una situazione Di merda Perché solo Quella può essere Rimasta Adesso La cambiano anche I nomi Si chiamano G235 Si chiamano Adesso Infatti Raga Si ci sono Quattro alleanze Ma sono tutti loro G235 KY35 SS35 E T235 I time Non so Per quale motivo Siano Messi così Non lo so Raga Tutto gestito In modo strano Raga Non sono come Il nostro regno Che Le minipotenze 55 milioni Hanno imposto A noi 25 Ok Non hanno cambiato Nel 35 25 È tutto Molto strano Raga Tutto molto strano Sono Molto strani Perché Non sono come noi Ok Non sono disposti Come noi In mappa Vedete ragazzi Noi abbiamo Tre alleanze Con le bandiere Che proseguono In una situazione Logica E loro No Non lo so Tutto ripeto Sono molto strano Nella gestione Del regno Quindi Speriamo bene Non lo so Non si capisce niente Tutti disposti Abbastanza In modo Sotto sopra Non si capisce niente Vabbè Poi vedremo Nel KVK Quello che esce fuori Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che Qualcosa di utile Vi sia stato Vi sia stato riferito Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Scrivete qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Del video Di cosa ne pensate Delle situazioni Delle nostre regni E nulla Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao